La fotografia dei 18 anni di Denise, sempre lì, da qualche settimana ormai, lì su quel tavolino in salotto e il cuore in frantumi. Mamma Barbara piange la sua Denise, andata via così, sul fiume Lau. Accompagnata al pulma ed è tornata morta. Tu non sei andata sul posto, sei rimasta a casa. In quelle ore, cosa hai pensato, cosa hai fatto? Pregavo, pregavo e aspettavo quella telefonata che mi arrivasse, che mi dicesse, vedi che l'hanno ritrovata, viva. Mia figlia è caduta due volte, l'hanno ripresa, era spaventata, bianca come la carta, e piangeva che non ce la faceva. Perché non l'hanno fermata questa cosa? Perché non si sono uniti tutti? Hanno vissuto un inferno, tutti i ragazzi, tutti i ragazzi, poteva essere una strage. Io vorrei sapere che gita e distruzione era. Che cosa dovevano andare a imparare in quel posto? Che cosa dovevano andare a imparare? Non è facile. Non è facile perché quando, perché mi manca, poi vedo tutti i suoi ricordi. Cosa vorresti oggi? La verità, la giustizia e che non succeda più. La verità, la giustizia e che non succeda più.